ciao a tutti vediamo come fare insieme questa sbriciolata al cioccolato la ricetta non è mia è di fable de sucre l'ho presa dal loro blog poi vi metto il link in descrizione allora metto tutto nella ciotola della planetaria la farina lo zucchero poi ci metto il burro lo faccio un po pezzetti qua lo spezzetto un pochino nella planetaria ho già messo la foglia ci metto anche l'uovo ho messo il pizzico di sale e metto anche mezza bustina 8 grammi di lievito per dolci che poi alla fine sono due due cucchiaini pressa poco ok bene ora faccio girare all'incirca due minuti la planetaria fino a sbriciolare tutto dell'impasto deve rimanere proprio sbriciolato eccolo qua è pronto intanto ho preparato questo contenitore che il diametro è di 22 cm lo imburro e poi vado a fare il primo strato all'incirca poco più della metà lo vado ad adagiare vedete a mettere sotto e lo spingo con le mani in questo modo formando anche un piccolo bordo proprio piccolino una volta pronto ecco vedete finisco di aggiustarlo ci metto il cioccolato a pezzetti ora qui questa brisolona è nata proprio per usare gli avanzi delle uova di pasqua kinder quindi volendo potete mettere quelli potete mettere qualsiasi altra cosa anche il cioccolato bianco misto a quello fondente io ho questo fondente e ci metto questo sono 200 grammi fatto a pezzettini lo metto, copro tutto il disco e poi sopra vado a mettere il resto delle briciole dell'impasto sbriciolato ok scusate che nel sottofondo c'è Sofia che sta giocando si sentono un po' di rumorini bene una volta messo coperto tutto sopra ci appoggio, ci metto giusto qualcuna, qualche goccia di cioccolato volendo se avete anche quelle bianche ci stanno bene e vado ad infornare forno a 180 gradi per 30-35 minuti eccolo qua ecco la nostra torta pronta vedete è dorata sopra ora la faccio raffreddare un pochino e poi la taglio che profumino amici manda un profumo incredibile buonissima la taglio che è un po' fredda altrimenti il cioccolato fuoriesce bene amici vi ringrazio della visione ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao